Con grande soddisfazione abbiamo inaugurato Wine to Asia, manifestazione del vino qui a Shenzhen in Cina, una manifestazione molto importante che vede verona fiera protagonista in tutto questo territorio, partecipazione molto importante all'inaugurazione anche da tutte le rappresentanze diplomatiche della Cina, ma diversi paesi del mondo e presentiamo oggi numeri davvero importanti, con più di 450 espositori provenienti da 27 paesi diversi, tantissime iniziative e novità presenti in quartiere feristico, masterclass guidati dai più importanti sommelier del mondo e anche della Cina, in questo caso vaccino di riferimento. A dimostrazione come verona fiera attraverso questa manifestazione sia di fatto un player davvero importante nella promozione del vino in tutto il territorio asiatico.